Oh scusa, scusa, oggi c'ho proprio voglia di un bel piatto di carbonara Ma guarda che noi siamo una pizzeria Però se vuoi ti faccio una buona pizza, la carbonara E tra poco, shh, ti dico anche un trucco per mangiarla gratis Mi raccomando, tieni di forte perché non è uno scherzo Cosa succede se unisci il piatto più tipico di Roma, ossia la carbonara, ad una buona pizza napoletana? Nasce la pizza carbonara ed è f*** totalmente deliziosa L'impasto della pizza soffice, morbido La cremosità della carbocrema, la croccatezza del guanciale Lo duri allo stato puro Mi trovo da Pizzeria Corat, Taranto E la persona Kitaki qui sotto nei commenti Ti deve offrire questa mega pizza carbonara